Scuole che aprono e chiudono, non in base alla programmazione di inizio anno scolastico, ma per questioni legate ai contagi da coronavirus. Sia in provincia di Ragusa che in tutta la Sicilia sono sempre di più gli istituti scolastici aperti a singhiozzo per nuovi positivi riscontrati tra i banchi di scuola. Gli ultimi casi registrati riguardano Vittoria e un istituto di Siragusa. Nel comune Ipparino la Commissione straordinaria ha chiuso in via precauzionale due istituti per stanificazione, Portella della Ginestra e Caruano. Entrambe le scuole, come altre della riapertura della zona rossa, sono state disturbate da alcuni casi di covid. Si spera in un forte senso di responsabilità, anche se giungono notizie che giovani e meno giovani si stanno organizzando per trascorrere le feste nelle seconde case. Stesso senso di responsabilità che sembra però mancare proprio a Siragusa, dove alcuni genitori affermano che le scuole restano aperte ma non funzionano. È successo all'istituto ottavo comprensivo Elio Vittorini, dove i genitori che fanno rimbalzare di aule in aule il loro grido d'allarme per diversi casi covid. Ma la preside non interviene. Un post su Facebook di un insegnante dell'istituto in maniera sottile e delicata senza creare allarmismo, e scrive «Di solito parlo di animali, ma stavolta voglio rivolgere alle persone un grazie speciale. Ho scoperto in questo brutto momento di avere tanti amici e mi state commuovendo con le vostre offerte d'aiuto in lati positivi del covid». Una mamma preoccupata chiede spiegazioni, visto che la preside ha messo un posto nella pagina della scuola scrivendo «Comunicato in atto, non abbiamo ricevuto un certificato né da medico né da laboratorio privato né da ASP che ci comunichi la positività di qualche docente nella scuola». Ma in realtà la professoressa in questione aveva inviato tramite il suo medico un certificato di malattia telematico con data 21 dicembre 2020 alle ore 9.22 circa. Non si capisce il perché anche l'insegnante richiede autorizzazione per malattia con data 30 dicembre 2020 per il 21 dicembre 2020 e la preside non tiene conto e dichiara il contrario. I genitori chiedono «Come possiamo fidarci ed affidare le nostre vite in mano a una dirigente e che ad altro avrà pensato tranne che a mettere riparo le vite umane?»